E rieccoci con un nuovo video ragazzi, io sono Cree e oggi siamo tornati su eFootball2024 per andare a continuare a provare i giocatori sull'account del Jack Quindi quest'oggi è il turno di Patrick Vieira Vieira ragazzi che ho sempre voluto, in realtà quando ho aperto per Gilberto l'obiettivo principale era Vieira Il secondo obiettivo era Gilberto, nel senso uno dei due mi fermavo, ho trovato Gilberto che è accollante, Vieira invece è incontrista Mi sono sempre trovato benissimo con Gilberto, non ho mai rimpianto di non aver trovato Vieira Quest'oggi però voglio provare Vieira, incontrista quindi totalmente un altro stile di mediano E sono curioso, sono curioso di provarlo con queste statistiche, la squadra è sempre la stessa, direi che possiamo andare Eccolo qui, primo avversario di quest'oggi Allora, frecce, nessuno giù e questo già è un bene, direi che possiamo andare così Dispiace per Saviola tutto su che vorrei provare, sono davvero curioso ma mi devo trattenere Quello è un altro video Questa è la squadra del nostro avversario Affrontiamolo Inizia così la prima partita di quest'oggi Palla a noi Guardalo Madonna che inserimento Vabbè però devi tagliare Cioè era una cosa che si impara Si impara quando sei un pulcino Quando giochi coi pulcini eh Quando giochi coi bambini di 10 anni ti fanno imparare a tagliare Era una cosa semplicissima Killian Dispiace che tu non l'abbia imparata Ma dove vai con Viera? Dove vuoi andare? Vai di prima? Mamma mia Killian Bappé Ha tutto lo spazio Per accentrarsi e far quello che vuole La dà in mezzo E' il pupone per Drogba 1-0 Al trentaduesimo Dopo un assedio totale Vantaggio meritatissimo Sto di dire ragazzi Tanta roba eh Davvero davvero tanta roba Non ne ho mai avuto uno di Drogba Questo addirittura era nel pacchetto che l'ho regalato Ma è veramente il giocatore che si addice al mio gioco Perché è forte di fisico È forte di testa C'ha quasi C'ha il completo È un Ronaldo Ovviamente Ronaldo è un altro È un È un altro mondo Però lì si avvicina come stile di gioco Qua attenzione perché c'è arrivato il pupone Caricato Non dovevo farlo caricato Sono un cretino Sono un cretino Però la palla rimane lì E il pupone Di prima per Neymar Ancora in mezzo Non ci arriva nessuno C'è Viera però C'è Viera che prova Ma questo è matto Questo è impazzito Questo vi tira pure le cannonate da fuori Guarda dov'è È già in difesa Ha già recuperato il pallone Madonna santissima Che cazzo di contropiede Poi c'è Mbappé che prova Lo scavetto Becca in pieno il portiere Grande peccato Non dico chiuderla Ma andare almeno sul 2-0 Che Sarebbe anche strameritato Siamo a 3 tiri in porta 11 fuori Pensavo di più Però 7 parate Spiegatemela questa Cioè 3 tiri in porta Però lui ne ha parate 7 E quelle 7 che ha parato Quelle 4 che ha parato in più Dove erano fuori Ma le ha parate lo stesso Ha parato anche i tiri fuori Come funziona? Bellissimo Tagliela subito Drogba Ci prova Drogba Dio santissimo ragazzi È un mostro È un mostro È un mostro Drogba è un mostro Cazzo È vecchissima sta carta Ma è veramente devastante Ed è anche free to play Alla fine perché Era nel pacchetto gratis Mamma mia Veramente Stupito Non mi aspettavo questo Tutto questo glamore Da una carta così vecchia Poi Drogba Però non me l'aspettavo Non me l'aspettavo sinceramente Se no ci avrei fatto davvero Un video a parte Invece l'ho buttato dentro Così in squadra Perché sapevo già Che mi sarei trovato bene Ma non pensavo così tanto Guardalo Guardalo Ma che cazzo vi devo dire ragazzi Tripletta di Dider Drogba È infermabile Di testa Di piede Di fisico Di potenza Una bellissima azione Si riparte Poi Neymar Si accenta Prova il tiro Neymar Porca troia Anche questo qui ragazzi Anche questo qui Cioè non sta nella mia squadra Soltanto perché Non c'è spazio Ma è un mostro Per essere free to play È davvero È davvero un mostro Ma lo vedete Come tiene Il cristo di pallone Lo vedete E lo vedete Che sto cazzo Di Mbappé È più forte Del mio showtime È più forte Del mio showtime Non è possibile Cazzo Shopee Poi i giocatori regalati Sono più forti Eh beh Tanto non lo sbaglia Vai tranquillo Che non lo sbaglia Non lo sbaglia Lo showtime L'avrebbe sbagliato L'avrebbe sbagliato 6 a 0 Ragazzi vabbè Non c'è stata storia Fin dall'inizio Qui arriva anche il rage quit Ogni volta il rage quit Arriva con Mbappé Arriva con Mbappé È il mio che non riesce A buttarle dentro Nonostante Sia costato l'ira di Dio Niente Quello free to play Evidentemente È più forte Eccola qua la vittoria Secondo avversario Di quest'oggi Allora frecce Eravamo messi meglio prima Però nessuno è giù Direi che possiamo Neanche nessuno è su Vabbè Direi che possiamo andare così Esattamente come prima Questa è la squadra Del nostro avversario Bella squadra Affrontiamolo Inizia così La seconda partita Di quest'oggi O prima o poi O è il mio account O è il mio account ragazzi Che ha il feticio E non Non le può vincere tutte Quindi ogni Ogni 3x2 Incontra lo script O sono direttamente io Oggi lo scopriremo Probabilmente Pellingham Stop Tiro Deviato Oh che cazzo Che cazzo è successo Ma io ho visto che l'aveva presa Poi mi sono girato E la palla è uscita Non ho capito che ha fatto check Quindi prima Dixon Per niente pericoloso Pierre Pupone Si accentra E Pupone Fa quello che vuole Francesco Totti 1-0 Mamma mia E questo vabbè Forse è l'unico giocatore In comune Della squadra Che utilizzo anche io Titolare anche io E quindi Mi ci trovo da dio Mamma mia L'1-2 Kylian Mbappé Il passaggio in mezzo Perfetto Per Drogba Forse non so se è il primo palo Che prendo su questo account Non vorrei dire cazzate Ma è nel dubbio Anche sull'account degli altri Streak Intatta Van Dijk Sponda in mezzo Passaggio indietro Per Bellingham Che la stoppa Prova il tiro Bellingham Immaginate fosse entrato Un gol del genere Bella azione ragazzi Bella azione Arriva il primo tiro totale Del nostro avversario Ovviamente Subito dopo il palo Perché è telecomandato Subito dopo il palo Però bella azione Non ho nulla da dire Arriva l'1-1 Il pareggio Attenzione perché qui Bellingham Il passaggio in mezzo Di prima Drogba Passaggio in mezzo Io volevo darla a Totti Ma va bene lo stesso Qui Totti si gira Con tutta calma La dà a Neymar Che supera il primo Neymar che si gira Supera anche il secondo Neymar Cazzo Mettila sul secondo palo Era gol Era gol fatto Passaggio avanti Neymar Subito per Totti Totti che si gira Fa quel cazzo Che gli pare Totti Anche lui Sul primo palo Ma perché Miro al secondo Perché la devono tirare sul primo Mandaik Sponda In mezzo Questo chi è Dixon signori Dixon Daryl Dixon ragazzi Direttamente da The Walking Dead Riesce a fare Forse Non so se ha mai segnato Sull'account del Jack Ma Forse è il suo primo gol Daryl Dixon Va che finché c'è Vera Non passi Finché c'è Vera Non passi Guardalo Drogba Carica il tiro Riparte Palla al piede Erpupone Fa quello che vuole Erpupone La mette in mezzo Perfetta per Drogba La palla rimane lì Mamma mia Che mostro ragazzi Neanche ce l'avevo in mano io Neanche ce l'avevo in mano io Guardalo Guarda che Cazzo di azione Mamma mia ragazzi Mamma mia ragazzi Il manuale del calcio Che azione Tutta partita Anche qui Da un recupero Del cazzo di Vera Proprio del suo cazzo Capito Che è successo? Non era fallo Non era minimamente fallo Non ho neanche toccato Veramente Un gioco del cazzo Arriva il secondo gol Sul secondo tiro Totale Su neanche un'azione Ma si Su un fallo inesistente Su un fallo Nettamente Inesistente Il modo per fargli A pareggiare Lo devono Devono almeno cercarlo Devono almeno cercarlo Se no non sono contenti Speriamo di riuscire a chiuderla Tipo adesso Tipo adesso No no Staccio feca Vai Tienila col fisico Drogba Provaci Ma ci stai provando almeno No 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 Spazzato 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 Cambi fatti Ragazzi Ci mettiamo attacco totale Perché non mi posso Minimamente permettere Di perdere Una partita del genere Contro un pippone del genere Non posso permettermelo Ma tanto darà Zero minuti di recupero Quindi il tempo in realtà Di fare gol non c'è Non ci interessa Degli showcase In questo momento ragazzi Non ci interessa Minimamente Degli showcase Tira Tira Messi Di sta minchia Di sta ceppa Di minchia Van Dijk È tutto nella tua sponda È tutto nelle tue mani È tutto nella Ha perso la sponda Contro Messi Ha perso la sponda Contro Messi Ragazzi Ebbene sì Ebbene sì L'ultima azione È la sua Ma c'è vera Che la chiude Ragazzi Finisce 3 a 3 Una delle inculate Più grandi Della mia vita Forse la più grande Di questo account Perché script Il Jack Non ne incontro Contro solo io Finisce 3 a 3 Un gol su punizione Due su azione Tra cui una regalata dal gioco 15 tiri in porta a 5 19 totali Devi essere proprio scarso Per prendere 15 tiri in porta A 19 totali Devi essere un Pipponazzo clamoroso Questo era un Pipponazzo clamoroso Migliore in campo Peter Cech 7 in pagella Griezmann ha fatto gol su punizione Quindi non lo contiamo 7 in pagella Per Peter Cech Che vi devo dire Che vi devo dire Non Evidentemente non è il mio account Ma sono io Sono io Lo script deve essere Obbligatoriamente Sempre solo Contro di me Quindi valutazione diminuita Perché giustamente Sono un pippone Era anche più basso In classifica E arriva il primo pareggio Di questa run Dispiace Dispiace ragazzi Perché ho fatto un partitone Potrà finire benissimo 5-6-7-0 Vera ha fatto un partitone Due partitoni Una bestia Clamorosa Molto diverso Da Gilberto Che sta lì a aspettare Lui ti attacca Ti macella È dappertutto Però È veramente dappertutto Un mostro Stessa cosa per Dropa Mostro sacro Mostro sacro ragazzi Cioè se lo sai utilizzare Io gioco proprio nello stile Di gioco suo Tanta tanta roba Dispiace veramente per il pareggio Dispiace per il pareggio Perché era scarsissimo E non Non ci hanno permesso Di fare Di fare altri gol Più che fare altri gol Comunque tre li abbiamo fatti Ci hanno permesso Di doverla Non ci hanno permesso Ci hanno obbligato a pareggiarla Fallo inesistente Gol su punizione Su fallo inesistente Secondo gol Regalato dal gioco Con me che spazzo Non spazza Peccato Primo non me lo ricordo neanche E non voglio ricordarmelo Perché altrimenti salta fuori Qualche altra merda Quindi niente ragazzi Spero che il video vi sia piaciuto È arrivato lo script Anche su questo account Dispiace Dispiace davvero tanto Però Questo è il gioco Bisogna accontentarsi Di quello Di quello che si ha Quindi Spero che il video vi sia piaciuto Lasciate like Condividete Iscrivetevi al canale E noi ci rivediamo In un prossimo video Ciao a tutti